su questo non ho alcun dubbio la parte che è stato più divertente scrivere sicuramente il diario di padre sole mastro ecco quella è stata proprio una pausa dalla sesura anzi una pausa dal filone centrale della trama una pausa in cui mi sono divertita a inserire le peggio cose dell'epoca relative alla medicina alle cure alla scienza alle credenze è stato veramente divertente primo perché ho potuto sbizzarrirmi sul carattere di padre sole mastro sempre ovviamente attenendomi all'ideologia di quel tempo padre sole mastro è una sorta di timorato di dio che poveraccio si trova a dover fare i conti con qualcosa di più grande di lui che su cui le cure ecclesiastiche della beata il degarda e le preghiere non hanno non sembrano avere alcun effetto bianca maria gli dà del filo da torcere e quindi mi sono divertita cioè è stata come una una partita scacchi con me stessa quindi da una parte c'è bianca maria in nella prima fase di evoluzione della della sua malattia di questa malattia sconosciuta che ne combina di ogni dall'altra c'è che tira fuori sempre nuovi sintomi dall'altra c'è padre sole mastro che si ingegna a trovare nei libri custoditi nella nella chiesa di sogne ogni sorta di di cura per combattere questi sintomi decisamente sovrannaturali a tratti quindi si è stato veramente divertente di la verità è il diario di padre sole mastro è stato uno di quelli che ha subito maggiori tagli in fase di seconda stesura proprio perché è una parte che non va a intaccare tantissimo la trama centrale quindi per forza di cose ho dovuto tagliare da lì cionostante ho lasciato moltissime cure di dubbio gusto per noi oggi ma assolutamente normali per l'epoca adesso non voglio rivelarvi tanto però era cosa comune all'epoca curarsi con umori di di scarto umani o animali con vipere e altro quindi è stato veramente divertente cioè io credo di avere un dei gusti un po macabri lo spiega anche il fatto che mi piace approfondire quei temi che normalmente sono considerati tabù per la società odierna quindi nonostante provassi un po di schifo perché comunque sia sono sempre una ragazza del di oggi del ventunesimo secolo però nonostante questo mi ha affascinato moltissimo anche perché è il lato un po orrido di un di una filosofia di vita che che seguo abitualmente io non mi curo coi farmaci io coi farmaci ho quasi lo stesso rapporto di odio che ho con la tecnologia mi piace curarmi con le cose che mi offre la natura sicuramente anche perché comunque discendo da una famiglia di agricoltori sono nata in campagna ho coltivato ho imparato a coltivare la terra fin da bambina quindi per me è molto più normale consueto quotidiano avere tra le mani erbe e fiori piuttosto che un flacone di di medicine quindi dopo tutto noi nasciamo nella natura non dentro una fabbrica quindi mi sembra naturale curarci con le cose della natura non con i prodotti farmaceutici finché si può